ciao a tutti e bentornati qui Shisanna in questo video parleremo delle mie palette preferite per la primavera come ho fatto per le precedenti stagioni trovate gli altri video qui sul canale sono andata nella mia makeup collection alla ricerca di tutte quelle palettes che secondo me si abbinavano bene al tema della primavera voi lo sapete se mi seguite ma io ho una passione per gli ombretti rosati e se oggi vi facessi vedere tutte le mie palette adatte alla primavera penso potremmo rimanere qui fino a domani mattina e quindi ho dovuto fare una cernita sono comunque tantissime ed eccomi qui munita di struccante alla mano perché voi lo sapete qui Shisanna si fanno sempre degli swatches pronta a partire per un altro video che nonostante tutto sarà come sempre lunghissimo detto questo come sempre bando alle ciance e cominciamo partiamo con una palette che mi sarei aspettata di inserire in questo video quando l'ho acquistata ma che in realtà per la primavera non è e quindi ci tengo a citarvela nel caso avreste avuto anche voi la stessa impressione e parliamo della palette Muse di Viv eccola qui è bellissima ma utilizzandola mi sono resa conto di una cosa è molto meno primaverile di quanto si possa immaginare ecco infatti parte degli swatches della palette questa di per sé è una palette molto più autunnale ci sono quattro scelte primaverili eccole qui abbiamo un rosa chiaro abbiamo un rosato pescato abbiamo un viola ma sono due scelte che si adattano molto molto bene anche all'autunno le uniche due scelte davvero rosate sono queste due ovvero le due più chiare della palette e quindi se pensavate a questa palette come una palette primaverile fateci un pensierino a me la qualità è piaciuta con un ma trovo i matt molto belli pigmentati e sfumabili anche se un po' polverosi gli shimmer sono molto belli anche se ci sono formule di shimmer molto più luminose trovo che per una palette con delle cialde così grandi perché queste cialde sono giganti sono grandi come le mini size di quello che potrebbe essere un bronzer o un illuminante manca qualcosa manca una shade chiara per illuminare l'angolo interno questa shade qui è comunque troppo scura e piuttosto avrei preferito delle shade dei pan più piccolini e poter avere più shade la metterò sicuramente in azione in uno dei prossimi video ma ci tenevo a segnalarvela nel caso l'aveste meditata come palette primaverile passiamo adesso ad una palette che rimane comunque su dei toni un po' più vintage meno rosati classici ma che a tutti gli effetti può essere una palette primaverile ovvero la retro palette di Natasha Denona anche questa non sono ancora arrivata a recensirvela sul canale eccola qui è una palette che mi è piaciuta anche qui tenete conto che se vi piacciono i rosa classici pescati rosa baby non è la palette per voi qui infatti siamo su dei pink più retro la qualità è quella di Natasha Denona io non posso rimproverarle nulla ma in questa palette ci sono tantissimi cream to powder ovvero questi ombretti di Natasha Denona in crema pensati per essere molto pigmentati senza fallout perché davvero sono quasi degli ombretti in crema in questa paletta abbiamo Andy questa shade qui Vivienne Apart Go Go Rebellion e cosa non mi piace di queste shade? non tanto le shade in sé ma come si sfumano con le altre perché secondo me la texture cream e la texture classica in polvere tante volte dove si incontrano non si fondono benissimo si rischia di fare macchia e quindi questo ci limita un po' negli abbinamenti di colore e anche sugli shimmer ho qualcosa da dire ci sono tre shimmer più classici eccoli qui uno un po' meno luminoso ed è la shade swing gli altri due Helio e Jude sono molto molto belli ci stanno degli shimmer così più metallici anche più sottili le shade dalle quali mi aspettavo di più in realtà sono le due rosate ovvero Glitz questa shade qui un rosa con dei riflessi dorati e Psychedelic che è questo rosa con dei glitterini azzurri eccoli qui la prima scena ovvero quella con i riflessi dorati questa qui è un po' sbriciolosa ma è molto molto bella solo che trovo che sulla palpebra risulti un po' meno luminosa che allo swatches anche bagnata con un setting spray la seconda scena invece è molto molto bella è questo rosa con dei riflessi azzurri ma è un top coat anche questo da solo non dà il meglio ma in questa palette non c'è una scelta che secondo me sia bene al di sotto di quella io infatti lo utilizzo sulla palpebra e al di sotto ho preso un ombretto dalla mercury retrograde della quale parleremo in seguito ovvero cosmic questo rosa metallico al di sopra del quale ho tamponato per avere tutti questi bellissimi riflessi azzurri la shade psychedelic e quindi questa palette mi è piaciuta capisco l'hype ma soprattutto da queste due shade rosate shimmer mi sarei aspettata qualcosina di più se vi piace questa idea di un rosa un po' più smorzato un rosa un po' più retro ma non volete spendere il costo delle palette di natasha denona ne ho una più piccolina e low cost una palette di morphe ovvero la 9w vintage rose adesso ha un pack nuovo che è stato rinnovato ma è sempre lei e trovo che queste mini palettine di morphe in realtà abbiano un buon rapporto qualità prezzo eccola qui qui siamo su una declinazione di rosa vintage delicati bellissimi e primaverili questa palette l'ho testata sul canale se cercate di shimmer super accesi non è lei ma sono comunque molto molto carini eccoli qui questi sono i tre shimmer anche in questa palette c'è un bellissimo rosa con dei riflessi dorati sono degli shimmer comunque sottili con una bella luminosità a me piacciono molto l'unica shade che forse non mi comincia pieno in questa palette è questa shade qui io non so se si percepisca in camera ma è un matte con dei glitterini eccolo qui glitterini che poi quando andiamo a sfumare la shade non rimangono al loro posto quindi è molto carina come tonalità di rosa ma non fate affidamento sui glitterini perché non rimarranno al loro posto al di là di questo trovo il rapporto qualità prezzo di questa palette molto molto buono e ve la consiglio qualora invece vi piacessero le colorazioni più intense quasi i fucsia sempre nella stessa linea c'è una palette molto molto più accesa eccola qui questa è la 9J ancora presente in questa gamma sempre con un nuovo pack queste palettine si aggirano intorno ai 14 euro si trovano anche su douglas.it ed io le trovo davvero davvero performanti eccovi qui alcune delle shade swatchate che mi piacciono molto anche questo fucsia bello intenso è ben pigmentato e performa bene e mi piacciono molto questi due shimmer qui uno più freddo e rosato è proprio un rosa baby molto luminoso l'altro invece più caldo con dei riflessi aranciati questa palettina l'avevo acquistata da tenere qui in Italia perché in Svizzera avevo praticamente la sua versione più estesa ovvero la 39S eccola qui una delle classiche palettone giganti di Morphe bella ma trovo che la qualità di alcune shade non sia all'altezza delle altre come succede spesso in queste palette grandi di Morphe non tutte le shade hanno la stessa qualità e quindi quasi quasi tra le due nonostante anche in questa ci siano delle shade molto molto belle io vi consiglierei di acquistare questa che è molto più compatta perché devo dire proprio per la dimensione tante volte io questa palette nonostante sia bellissima non vado a ricercarla eccovi in questo caso lo swatch di alcune tra le mie shade preferite penso di non averle nemmeno testate tutte da quanto è gigante questa palette come sempre c'è un po' rimorso per avere tutte queste bellissime palette e avere solo due occhi e quindi non riuscire a sfruttarle appieno passiamo adesso invece a una palettina che un pochino mi ha delusa è molto carina nel pack ma molto banale nelle shade e nella formula è questa palettina di Too Faced ovvero la Let's Play che ho testato qui sul canale che mi ha convinta, mi è piaciuta fin da subito per la nerd che è in me perché richiama proprio il joystick di un videogame molto molto carina devo dire che l'ho anche sfruttata queste sono le shade i matt performano bene, costruibili non sono i matt più pigmentati che io abbia mai testato anche gli shimmer sono carini ma in questa palette non c'è nulla di eccezionale nessuna shade che io non possa ritrovare in tutte le altre mie palette quindi nel caso di questa palette ha vinto più il packaging rispetto poi alla qualità degli ombretti all'interno perdonatemi se sono un po' più veloce del solito ma ho davvero tantissime palette delle quali parlarvi e adesso arriviamo ad un brand che adoro e da una delle mie palette preferite non solo per la primavera ma in realtà nella mia makeup collection ovvero la corde rosa di Sigma eccola qui una palette davvero meravigliosa eccola qui non solo abbiamo un pennello di ottima qualità è la qualità meravigliosa di Sigma che dà un valore aggiunto alla palette ma possiamo davvero sbizzarrirci a partire da un matte più chiaro con il quale possiamo eventualmente settare la palpebra spostandoci abbiamo tutti dei colori intermedi come questo rosato come questo colore aranciato se però vogliamo un colore più classico abbiamo questo rosa vintage che è proprio il colore corde rosa eccolo qui con questo bellissimo intarsio se vogliamo intensificare abbiamo anche una shade molto molto scura e anche per quanto riguarda gli shimmer abbiamo due shimmer più intensi e più luminosi eccoli qui e gli altri shimmer invece sono più metallici e più sottili ecco qui gli swatches paradossalmente una delle mie shade preferite in questa palette non è un rosa ma questa shade qui in alto ovvero Belle of the Ball lei che è bellissima è uno champagne luminosissimo che mi ricorda effettivamente un pochino gli ombretti in pot di Hourglass meraviglioso se però anche questa palette fosse un po' fuori budget per voi ne ho una molto simile sempre di Sigma più piccolina ovvero la Rosy non è identica ma la trovo comunque molto molto bella e di ottima qualità anche in questo caso abbiamo di che sbizzarrirci con degli shimmer più luminosi come la shade Fantasy eccola qui o la shade Morganite abbiamo il classico rosa con i riflessi dorati abbiamo dei matti intermedi abbiamo un matti più scuro in questo caso rosato per intensificare i look devo dire che anche in questo caso c'è di che sbizzarrirsi anche questa palette è di ottima qualità e la trovate recensita sempre qui sul canale passiamo adesso ad un'altra palette che a me fa subito pensare alla primavera che è proprio il periodo dell'anno in cui la utilizzo di più ovvero la Mercury Retrograde una palette che è vero ha dei difetti ma che si fa amare comunque eccola qui l'armonia dei colori a me piace moltissimo ci sono delle shade alle quali mi aspettavo di più appunto questo lilla che è scavato perché in realtà per renderlo pigmentato bisogna lavorarci un pochino ci sono invece delle shade molto belle come questo turchese in generale gli shimmer di questa palette sono meravigliosi anche i matti si comportano bene tranne uno ovvero Vortex la shade più scura che trovo un po' difficile da sfumare gli shimmer di questa palette sono meravigliosi la mia shade preferita è senza dubbio questa qui ovvero Nebula che ha tantissimi tantissimi riflessi ma è davvero difficile scegliere perché sono tutte meravigliose una palette costosa è vero ma che se trovaste soprattutto scontata io alla fine vi consiglierei non mi sono in realtà mai pentita di averla acquistata capisco che abbia dei difetti ma alla fine l'ho sempre sfruttata tanto ultimamente un po' meno e quindi devo rimetterla ben bene lì davanti perché è proprio la stagione perfetta per sfruttarla al meglio la shade che ho utilizzato all'angolo interno viene proprio da questa palette ed è questo bellissimo turchese ovvero Haze eccolo qui al di sopra ho aggiunto un po' di brillantini con questo top coat che è Super Moon arriviamo adesso ad un brand del quale vi parlo spesso che vorrei fosse più reperibile ovvero Juvia's Place io ho due palette la Sweet Pinks e la Moves che entrambe si abbinano molto molto bene al tema della primavera e funzionano molto molto bene in combo perché nella Pinks mancano dei colori scuri per intensificare che troviamo nella Moves se vi piacciono le colorazioni più accese più neon eccola qui la Pinks fa per voi se vi piace qualcosa di più soft e più mauve appunto la Moves è perfetta a me la qualità di questi ombretti piace moltissimo anche queste due palette le trovate entrambe recensite sul canale ed io le trovo di ottima ottima qualità passiamo adesso alle mie palette di Pat McGrath all'inizio avevo pensato alla Utopian ma devo dire che a parità di quantità di shade trovo molto molto primaverili queste shade più in alto ma per il resto forse siamo più sul autunno una mia palette di Pat McGrath che senza dubbio è molto primaverile è lei eccola qui molto molto primaverile la Rose Decadence non solo primaverile nel packaging ricoperto di rose ma anche nei colori anche questa palette la trovate recensita sul canale ma tra le palette di Pat McGrath è quella che forse mi piace un pochino meno nessuna shade performa male assolutamente ma preferisco spendere molto di più per avere una mothership che spendere comunque tanto per queste shade perché sono più classiche i matti performano bene li shimmer anche ma non ho trovato nulla che mi abbia fatto saltare dalla sedia la shade più in hype di questa palette è il multicrome eccolo qui che ha dei riflessi arancio rosati ve l'ho swatchato qui sulla mano è molto molto bello ma non paragonabile ai multicrome di altre palette quindi onestamente vi consiglio piuttosto un quad piccolino che vediamo tra poco se vi piacciono le shade speciali di Pat McGrath il quad che vi consiglio è senza dubbio lui non trovo il nome ve lo scrivo qui eccolo qui è un quad solo di shimmer luminosissimi le prime due shade sono senza dubbio le più primaverili ma la prima per me è la shade primaverile per eccellenza è una delle mie shade preferite in generale nella mia makeup collection eccola qui è un rosa con dei bellissimi riflessi dorati la primavera in una shade e a me piace davvero moltissimo ma se dovessi consigliarvi solo un quad rosato di Pat McGrath vi consiglierei senza dubbio questo quad qui il Divine Rose Lux Quad nella colorazione Eternal Eden eccolo qui abbiamo due matte quindi è molto molto più versatile ed è in questo caso la primavera in un quad ecco gli swatches in questa palette non abbiamo shade speciali le shade particolari di Pat McGrath ma abbiamo un matte rosato un matte mauve un bellissimo shimmer più scuro e il classico rosa con riflessi dorati tutte shade di ottima qualità quindi tanto più se trovato scontato questo è un quad di Pat McGrath che mi piace molto non batte quello autunnale il Wireistic Vixen che ha davvero quella shade meravigliosa ma per essere un quad senza shade speciali io lo trovo davvero meraviglioso passiamo adesso dalla primavera in 4 shades alla primavera in 5 milioni di shades con la Norvina Pro Pigment Palette Volume 4 una palette che io trovo molto molto versatile e che mi piace davvero tanto anche questa ha una recensione sul canale eccola qui con questa palette c'è di che sbizzarrirsi abbiamo dei rosa più fluo dei rosa più classici dei malva e soprattutto tantissimi nude e qui sta un po' la forza di questa palette volendo ci si può fare anche solo un look nude senza utilizzare nessun rosa quindi è davvero molto molto versatile versatile nelle shade versatile anche nelle texture ci sono degli shimmer molto più luminosi come ad esempio i primi due shimmer della palette A1 e A2 ci sono dei glitter quindi c'è di che sbizzarrirsi con i brillantini ma ci sono anche delle shade più sottili e sono queste shade qui eccole qui ve le indico con le dita la palette è gigante faccio fatica che hanno una leggera satinatura ma rimangono molto più sottili sulla palpebra quindi si adattano anche ad una palpebra più segnata è una palette che a me piace molto se c'è una shade che un po' mi ha deluso è la shade gialla che è molto molto bella che utilizzo molto molto spesso all'angolo interno quando faccio dei look viola ma dalla quale mi aspettavo un po' più di pigmentazione e un po' più di tenuta anche perché è la shade che attira un po' l'occhio nella palette a parte questo ci sono delle shade meravigliose eccovi anche in questo caso qualche swatch queste due shade che sono E5 e E1 sono pigmentatissime questo viola rosa neon acceso che è questa shade qui è diversa da tante altre shade che ho trovato in altre palette anche se in camera risulta molto più viola che fucsia è sempre il solito problema e davvero la trovo bellissima qui avete qualche shade più luminosa e qui uno di questi shimmer che come vi dicevo ha dei bellissimi riflessi ma rimane molto più sottile sulla palpebra una bellissima palette che vi consiglio non vi preoccupate vedo la fine siamo adesso a due palettes delle quali vi parlerò insieme perché sono due di una palette ovvero la nude di Huda Beauty la prima è questa palette di Catrice che si chiama Nude Peony che io avevo acquistato in Svizzera perché lì si trovava e in Italia non ce n'era traccia eccola qui chiaramente c'è un richiamo un dupe alla palette di Huda Beauty che però non aveva delle ottime recensioni e che quindi non mi sono mai fidata ad acquistare la seconda palette che è sempre un dupe della stessa palette è la Socialite di V7 che in realtà non ho acquistato ma mi è stata spedita gratuitamente quando ho raggiunto una certa soglia di spesa su Maki Beauty eccola qui non sono identiche ma molto molto simili io mi ero detta che avrei regalato una delle due la Catrice è un po' più calda forse quella di V7 è più mauve perché non le ho regalate? perché queste palette sono diverse nella qualità alcune shade mi convincono molto di più nella V7 altre nella Catrice e quindi davvero non sono mai riuscita a scegliere quale regalare spesso le uso in combo e le ho tenute entrambe per quanto riguarda i matte alcuni performano meglio nella palette di Catrice altri in quella di V7 una differenza secondo me c'è negli shimmer quelle di Catrice vanno stratificati di più per avere una bella intensità ma poi sono sottili sulla palpebra quelle di V7 sono molto cremosi luminosissimi fin da subito ma sono quelle texture che sono molto spesse quindi se avete la palpebra assegnata vi andanno ad enfatizzare tutte le piccole rughettine eccoli qui da questa parte abbiamo gli ombretti di Catrice magari meno pigmentati ma più sottili da questa a quelli di V7 molto più pigmentati e cremosi ma più spessi se dovessi davvero sceglierne una adesso che non ho ancora la palpebra troppo segnata forse preferisco quelli di V7 perché sono più pigmentati fin da subito devo solo fare attenzione a non stratificare troppo il prodotto sono comunque due valide alternative ad una palette costosissima sono senza dubbio due palettes primaverili e hanno un prezzo molto più accessibile quindi se già la palette di Oda Beauty magari non ha convinto al 100% per la qualità quando si spendono 15 euro al posto di 60 tutto è molto più semplice ho brillantini ovunque diventa davvero ormai difficile rimuoverli e siamo arrivati davvero alle ultime palette ora delle ultime è la Venus XL di Lime Crime eccola qui a me questa palette piace moltissimo capisco che ormai ci siano brand che magari hanno delle shade più performanti per quanto riguarda i matti in realtà abbiamo una pigmentazione incredibile per quanto riguarda gli shimmer la formula di Lime Crime prevede degli shimmer molto poco luminosi quindi devono piacere questa palette per me ha fatto la storia mi ero messa da parte i soldini per acquistarla avevo anche fatto parecchio fatica e quindi non potevo non parlarvene perché è davvero una palette che ho nel cuore ecco i matt che sono molto molto pigmentati la formula però è un po' secchina rispetto agli ombretti che escono adesso sul mercato si riesce comunque tranquillamente ad utilizzarli per quanto riguarda gli shimmer come vi dicevo sono sottili ma non sono certamente gli shimmer luminosi super intensi ai quali siamo abituati ora la trovo però comunque una palette bellissima e sono innamorata della shade passion questo bellissimo fucsia se avevate pensato all'acquisto se vi frenava comunque il prezzo di questa palette che è bello altino in questo caso ci aiuta I Heart Revolution con la palettina Angel Heart che è la prima palette che mi sono acquistata senza nemmeno sapere che fosse un dupe di questa nel senso che l'ho acquistata prima dell'altra palette e poi ho scoperto esserne un pochino il dupe low cost non sono identiche ma ci sono molte molte shade in comune e devo dire che anche la palette di I Heart Revolution performa comunque molto molto bene non ho più posto sul braccio ve li ho swatchati qui sulle dita sono comunque molto molto pigmentati molto ben sfumabili e quindi in realtà onestamente se vi piacevano tanto tanto le shade di questa palette che è comunque bella primaverile ma volete spendere un po' meno potete farlo per quanto riguarda la palette di Revolution gli ombretti matte sono leggermente meno pigmentati di quelli di Lime Crime ma comunque la pigmentazione è buona sono anche leggermente più cremosi come sono più cremosi e leggermente più intensi in questo caso gli shimmer quindi sugli shimmer quasi quasi vince I Heart Revolution siamo arrivati all'ultima palette che è di Cosma Hi-Fi in collaborazione con Erichiova ovvero la palette degli scapigliati della quale io mi sono innamorata online per queste due shade ovvero Zara e Joyce una un bellissimo pesca l'altra un bellissimo rosa anche in questo caso belli accesi belli in neon e come sempre ho paura non risalti in camera nel caso di questa formula poi mi sono innamorata anche di un'altra shade ovvero Trilussa che è questo bellissimo nocciola con una punta di rosato una shade che sembra scontata ma non è perché non è poi così semplice da trovare e che trovo elegantissima i mal di questa palette devo dire performano molto molto bene e sono molto facili da utilizzare eccoli qui per quanto riguarda le shimmer bisogna tenere conto che questa palette è stata pensata anche per l'anti age questi sono le shimmer in alto abbiamo Molière poi Breton ed infine Alda Molière è molto bello è il più luminoso è un rosso che difficilmente si trova shimmer quindi da un valore aggiunto secondo me a questa palette anche i riflessi di Breton mi piacciono molto anche quelli di Alda sono molto molto belli queste due shade però chiaramente per i miei gusti a me piacerebbero più intense perché lo shift è molto molto bello ma rimangono molto molto sottili soprattutto Alda è quasi impercettibile se non vado a muovere il braccio e non si vede lo sheen questo però è un qualcosa che non andrò a giudicare perché fa parte della scelta di Eri Chioba che ha creato questa palette come vi dicevo anche per essere adatta per un trucco anti age che prevede davvero solo una leggerissima satinatura sulla palpebra per non andare proprio ad enfatizzare eventuali rughette o pieghette e quindi sinceramente non è un qualcosa che voglio giudicare se però mi chiedete quali sono le mie texture preferite in questa palette sono senza dubbio i matte come vi dicevo trilussa e questi due bellissimi colori rosato e aranciato che la rendono un po' speciali proprio come vi dicevo per questa componente bella accesa bella neon questa era l'ultima palette della quale volevo parlarvi in questo video lunghissimo sulle mie palette preferite per la primavera adesso tocca a voi tocca a voi lasciare o mi piace a questo video se avete apprezzato la mia dedizione agli eswatches ma soprattutto iscrivervi al canale un piccolo gesto che come vi dico sempre fa un'enorme differenza ma ancora di più mi raccomando fatevi sentire giù nei commenti sono curiosissima di sapere quali tra queste palette conoscete o avete provato e come vi siete trovati e quali sono le vostre palette preferite in questa stagione detto questo vi mando un mega gigante grossissimo bacio e vi ricordo che se vi va io vi aspetto sempre qui scesa ciao 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 Grazie a tutti.